Il primo caso clinico che vi mostro è di una ragazza di 28 anni affetta da morbo di Crona che si è presentata in visita la prima volta con dolori allo stomaco, crampi addominali, diarrea frequente, gonfiore e anche a livello addominale non solo gastrico ed era relativamente sottopeso. Al momento della prima visita, quindi al momento dell'anamnesi, stava assumendo gastroprotettore e mesalazina e seguiva un'alimentazione inevitabilmente molto restrittiva perché molti alimenti davano forti fastidi a livello gastrico. Abbiamo iniziato ovviamente con una lieve applicazione a livello alimentare nel senso che i cambiamenti a livello alimentare erano stati lievi vista la difficoltà nell'inserimento di nuovi cibi e abbiamo iniziato il protocollo intestino andando a inserire i probiotici e il gastro. Il gastro per il primo periodo ho deciso di darlo a dosaggio dimezzato per evitare che attraversasse una fase di riparazione intensa essendo la glutamina un elemento fortemente riparativo e utile appunto nel ripristino della condizione fisiologica e vista la condizione di malnutrizione avevo deciso di aggiungere anticipatamente rispetto alla solita fase 2 un dosaggio dimezzato del multivitaminico. Questa fase iniziale è durata 30 giorni a seguito della quale la paziente aveva riferito di aver proceduto in maniera molto regolare con i cambiamenti a livello di alimentazione aveva iniziato effettivamente a vedere un vantaggio da un punto di vista gastrico in termini di minor frequenza e intensità dei fastidi anche se rimanevano acuti nell'introduzione minima di alimenti diversificati. L'intestino si era abbastanza regolarizzato quindi erano scomparse le scariche diarroiche e anche i crampi addominali ed erano migliorate anche lievemente le energie a tal punto comunque da poter iniziare anche un'attività fisica. Ho deciso dopo i 30 giorni di passare ad un regime di un dosaggio diciamo normalizzato della glutamina di un'attività fisica. Grazie.